E' stata una partita in cui abbiamo dominato, ma non siamo riusciti a segnare, anche avendo avuto tante occasioni. La Giaccio è stato fortunato ed il loro portiere ha fatto una grande gara, ma io penso il contrario, sinceramente. Quando hai tutte le occasioni che abbiamo avuto noi, devi segnare di più. Oggi non ci siamo riusciti. Edinson ha segnato un gol fantastico, ma raccogliamo solo un punto. Dobbiamo continuare a lavorare per velocizzare la manovra. Dobbiamo migliorare e soprattutto quando abbiamo la possibilità dobbiamo segnare. Cavani ha giocato una buona partita. Il gol è stato bellissimo nella sua prima partita nel nuovo stadio. Posso immaginare come si sente, perché anch'io all'esordio sono andato a segno ed è una grande emozione. Sono sicuro che continuerà a segnare altri gol. Quando la squadra farà meglio sarà più facile anche per noi attaccanti segnare. E' un buon start per noi.